3. Utilizzi l'oggetto ingombro per modellare gli edifici adiacenti a quello di progetto. Disegni l'ingombro sul 3D, o, sul livello. Fissi i punti del perimetro, con un clic. 4. Utilizzi le intersezioni con altri oggetti, per fissare i punti. Indichi la direzione e digiti da tastiera alla misura del tratto. Termini l'inserimento. Definisci l'altezza graficamente, o la digit da tastiera. Indichi la direzione e digiti da tastiera. Indichi la direzione e digiti da tastiera.